Dopo questa brillante vittoria con il brillante Torrino siamo con il direttore sportivo del Saviano Luigi Ferrara. Luigi, il Saviano che deve salvarsi con un organico ridotto, con una grossa disponibilità economica, continua a sorprendere, continua a vincere in zona playoff. Che appello puoi fare a Saviano, ai savianesi e soprattutto agli imprenditori savianesi, vista le difficoltà che state incontrando come dirigenza? Il mio appello è che, lo sto facendo da due anni, ad entrare qualcuno in società, anche qualche azienda, qualcuno che piace veramente il calciacinque, perché veramente ci serve una mano, siamo già a buon punto, anche se l'organico è ridotto, però abbiamo un grande mistero con grandi calciatori. Diciamo che il più è fatto con un grande pubblico oggi. Il mio appello è se qualcuno veramente chiese a cui il calciacinque di entrare in società e darci una mano. Soprattutto perché si è raggiunto la Serie B nazionale. Sì, ma poi io dico sempre che noi siamo forse l'unico sport a Saviano che va girando con il nome Saviano Città del Carnevale. Nonostante tutto sponsorizziamo anche il Carnevale, non prendiamo soldi dal comune, non prendiamo soldi. Io credo che se qualche esercente è interessato, benvenga. Poi vorrei fare un appello per sabato. Sabato è l'ultima partita che chiudiamo il girone e voglio un po' di pubblico fuori casa, mi aspetto. Dove si andrà? Noi andiamo a Pratola, trasferta vicina, mangiamo e ci divertiamo. Quello che dico sempre io, posso dire la mia frase, mentre per noi un gioco, per gli altri è un'ossessione. Noi lo facciamo con il sorriso questo sport e vorremmo coinvolgere altra gente. Benvenga chi sta a cuore del calciacinque a Saviano.